Pasqua 2021, Pasqua tipica come l'estato Natale e il Capodanno, il mio migliore augurio che possa farvi è quello che nell'uovo di Pasqua possiate almeno trovare un po' di sorriso. Buona Pasqua a tutti, io è Stefano di Jaystech, ciao! Per il secondo anno ci tocca di nuovo rimanere tutti a casa. Il mio augurio è che comunque possiate passare una santa, serena Pasqua a tutti. Auguri da Vince! Con la certezza che anche quest'anno il Signore mi susciterà nei nostri cuori, porgo i miei più sinceri auguri per una santa e serena Pasqua. Ciao da Luciano il Menestrello, ciao ciao! Vorrei augurarvi una serena Santa Pasqua a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite. Speriamo in una nuova rinascita dopo questo brutto periodo. Buona Pasqua 2021 da Pino, DJ Country! L'orologio sembra non essersi fermato. A distanza di un anno siamo per la seconda volta a farci gli auguri di Pasqua tramite dei canali social. Facciamocelo andare bene e quindi anche da scheggia, tanti auguri di buona Pasqua!